Buongiorno, l'anticiclone che ha interessato il Mediterraneo in questi giorni e che ha portato la stabilità atmosferica e accumulo di aere umide e quindi delle nebbie anche sulla nostra regione, subirà un temporaneo cedimento sabato per il passaggio in Austria di un debole fronte che richiamerà correnti da sud ovest umidi anche sulla nostra regione. Vediamo dunque le previsioni all'ora per sabato, cielo nuvoloso coperto sulla pianura e sulla costa con delle deboli piogge o delle più vigine sulla fascia orientale e sulla costa, le montagne invece schiarite un po' più ampie, in particolare sulle zone più interne delle prealpi e sulle Alpi. La farà ancora da padrona naturalmente la nebbia nelle ore più fredde della notte e nelle prime ore del mattino. Domenica direi schiarite un po' più persistenti sulla pianura e sulla costa, cielo in genere nuvoloso, poco nuvoloso sulle zone alpine e le zone interne delle prealpi per il passaggio di velature in quota piuttosto anche consistenti e ancora formazione di nebbia durante la notte, le prime ore del mattino e poi di nuovo dalla sera. Temperature in risalita sulla nostra regione sia nelle minime che nelle massime e temperature molto miti in quota. Dall'osservatorio metodologico dell'ARPA, Livio Stefanotto